Musica Buongiorno e bentrovati a Mattino 6, oggi venerdì 10 febbraio, la Chiesa Cattolica Venera Santa Scolastica. Iniziamo la nostra rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali dal quotidiano dell'Abruzzo il centro, vediamo ore contate per i piromani, attentato a Sebastiani, inquirenti cercano gli autori tra i tifosi. E in centro pagina poi la fotonotizia che titola e per il Parlamento e caccia al seggio blindato elezioni, l'Abruzzo già si prepara. La consulta in spalla, maggioranze omogenee alle elezioni, a Tessa, Sevel, la PP vietata diventa caso nazionale. E poi il caos del Movimento 5 Stelle a Roma, Berdini, Raggi, inadeguata, ma lei lo perdona. All'interno Banca Marche, Angelini e Caldora, tra i VIP abruzzesi, istituti falliti, ecco i debitori. Finisce la favola del lupo Claudio, è stato ucciso dal parco Gran Sasso a Macerata. E poi maltempo in Abruzzo, il blackout Terna si autoassolve, danni limitati. Nel taglio basso, vediamo ad Avezzano, Mannoia, un amore abruzzese, legame da dieci anni con il musicista Carlo Di Francesco e poi Pescara, in breve indagati per gli insulti al sindaco via Facebook. Ed ora la prima pagina dedicata alla provincia di Chieti, stessa l'apertura nel taglio alto, vediamo multe record, 9 mila in due mesi, a Chieti la telecamera piazzata dal comune a Brecciarola non perdona. E poi cambia il taglio basso, Lanciano, profughi, dieci sindaci contro il prefetto. Edizione dedicata alla provincia di Teramo, l'8-0, la frana fa più paura, Teramo sfollati senza soldi per l'affitto ma per il comune è tutto a posto. E poi Teramo calcio, Scipioni punito per un post su Facebook. Edizione dedicata alla provincia di L'Aquila, vivere in centro, L'Aquila si divide, di benedetto i politici della nostra città devono dare l'esempio. Sul Mona libera Ovidio dalla neve, il sindaco paga la multa. Ed ora il messaggero in apertura scandalo, forniture alla tua, visi di garanzia per il presidente Michele Valentini e i titolari di quattro aziende fornitrici della spa pubblica dei trasporti. Un giro da 30 milioni, secondo la finanza. In centro pagina vediamo la fotonotizia Pescara. L'inchiesta, nessun mandante per l'attentato, solo 5 ultra per il rogo da Sebastiani. Rapina nella villa di un noto avvocato, arancio a meccanica ad Avezzano. E poi in spalla Gran Sasso, il parco piange, lupo Claudio ucciso dai bracconieri. L'Abruzzo in ginocchio, in centro pagina, visti di Gentiloni a penne. La nuova visita, il premier annuncia il ritorno in Abruzzo. Terremoto, pronto il dossier per la UE. Il delitto di Vasto di Lello punta all'infermità. Ed ora il quotidiano della provincia di Teramo. La città, in apertura aperta l'inchiesta sull'8.0, primo rapporto della stradale in procura sulla frana di mezzanotte, interviene il genio militare. E poi la fotonotizia in centro pagina per quanto riguarda il Masterplan. Il titolo della fotonotizia Masterblef, clamoroso, intoppo sui fondi già impegnati. E la sanità, i dirigenti medici approvano l'ospedale unico sulla Teramo Mare. E poi Teramo senza pace per colpa dei social, il terzino Scipioni punito per un post sulla tifoseria. Albadriatica incontro Partito Democratico saltato per un articolo. E nel taglio basso vediamo la storiaccia. Il lupo Claudio salvato dalla forestale, ucciso dai bracconieri nelle Marche. Silvi, in breve i pini scolpiti dal vento, sono monumenti. Ed ora passiamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Dal Corriere della Sera vediamo la spinta per la legge elettorale. La sentenza, quindi la consulta, servono maggioranze omogenee per cambiare le regole sui capilista. Depositate le motivazioni sull'Italicum, Roma e 5 Stelle cercano il sostituto di Verdini. E poi il verdetto e l'alibi caduto, tra i titoli ancora scendo in campo da progressista. L'intervista con Pisapia in spalla. La riflessione che titola un esercito dell'Europa imitando la Svizzera. E in centropagina maltempo, 3 mila voli cancellati, l'ONU non apre gli uffici. New York chiusa per neve, non venite in centro. Niente procedura da Bruxelles ma più controlli ed ancora la zona euro resterà unita. Nel taglio basso un film su Rigopiano, L'Ira dei Salvati. Il produttore quattro puntate sulla tragedia in Abruzzo. No, serve più rispetto. Andiamo alla Repubblica, vediamo il monito dei Lenziani e Gentiloni. No a nuove tasse, Renzi pronto a dimettersi il PD subito al Congresso. La consulta, maggioranze omogenee nelle Camere. E poi ancora il caso Merkel-Draghi. Patto per l'Euro a una velocità. e il commento che titola l'impotenza del riformismo. Raggi commissaria Berdini, dopo lo stadio mi cacciano. E ancora vediamo la fotonotizia. Nel paese delle mamme felici, perfetto per fare più bambini. Nel taglio basso, quelle garanzie negate che uccidono sul lavoro. Passiamo al messaggero. Legge elettorale in apertura, così si cambi. Le motivazioni della consulta sull'Italicum. Vanno garantite maggioranze omogenee. Nuove regole per il capilista. Con il ballottaggio voto falsato, spinta per il Parlamento. E poi la fotonotizia dopo i manifesti. Lettere a Cardinali e Bescovi. Torna la fronda anti-Francesco. Un falso osservatore via mail. Gentiloni, irrealistico. Putin al G7. Draghi Merkel. Patto per la moneta. Frenata sull'Eurozona a più velocità. E la versione Romeo e PM alla Raggi. Volevo bene, nomina e polit nel mirino. Anche la delega alle partecipate. Il day after dell'assessore. Berdini commissariato. Per ora resta. Stadio io argine alla speculazione. Nel taglio basso invece vediamo la lotta all'evasione. In caso record, recuperati 19 miliardi. Funziona il canone Rai in bolletta. Gabbia di vetro per la Torre Eiffel. Sicurezza. Parigi realizzerà una barriera antiproiettile. Visite fiscali. Boeri in malattia. Sette ore di reperibilità. Anche per i privati. E poi Trump. In breve non mi arrendo. USA. La corte d'appello conferma sospeso il bando anti-Islam. Il giornale Il Tesoro di Berlino. La Germania riporta a casa l'oro che aveva in America. Gentiloni sì a Unione Europea a due velocità. Merkel frena sulle due monete. In spalla tutti i controrenzi dal PD al governo vogliono la sua testa verso le dimissioni. Da segretario. La consulta sull'Italicum. Bisogna garantire maggioranze omogenee. In centropagina l'attacco su Twitter. Asia Argento horror contro la Meloni. Grassa e fascista. E questo non è sessismo. E poi ancora tasse. Nuova mazzata in arrivo. Sale ancora il prezzo della benzina. Mancano 3,4 miliardi. Il governo verso un rialzo delle accise. E poi nel taglio basso a Roma. Gentiloni in toga litigano per la casa. La folle guerra del giudice sfratta il figlio. E un prof muore di meningite e torna alla paura a Milano. Il fatto quotidiano. Vediamo l'amico di Babbo Renzi dietro l'unità a Romeo. Nelle carte della perquisizione. Il ruolo del facilitatore Carlo Russo. Povero Matteo beffato pure dal festival di Sanremo. In centropagina invece Pasticci. La legge che favorisce Alfano Junior. Pagato da poste per non far nulla. Rischia di decadere il fascicolo della Corte dei Conti sul fratello del ministro. E poi ancora in centropagina 5 Stelle. La raggi deve restare o mollare rispondono giornalisti ed esperti. Lega Nord. L'eterno ritorno di Bossi. Io e Silvio siamo meglio di questo PD e di Grillo. E poi Milano. Il blitz della Guardia di Finanza. Cantone indaga sui fondi expo al Palagiustizia. Sanremo lo spacco della furbizia di Letta Leotta voleva denunciare e provocare. Ed ora passiamo a Libero. In apertura la vita agrodolce della Raggi. Patata bollente così il titolo. La sindaca di Roma nell'occhio del ciclone per le sue vicende comunali e personali. La sua storia ricorda l'epopea di Berlusconi con le olgettine che finì malissimo. Un milione di euro in dieci mesi. Bevi Casaleggio trova il modo di farsi pagare dai grillini. In spalla vediamo l'arma segreta di Davigo. Esca dai cassetti. Così il titolo. E poi in centropagina Renzi convoca il Consiglio di Guerra. Lunedì giornata decisiva per il futuro dell'ex premier e del PD a pezzi. Ancora tra i titoli vediamo i giudici a Matteo. Divieto di bordellum così non si vota. E poi Angela teme Trump. La Merkel in ginocchio chiede aiuto a Draghi. Passiamo alla stampa. Merkel-Draghi. Patto per l'euro. No alla moneta a due velocità. Lungo incontro a Berlino tra il presidente della Banca Centrale e la cancelliera tedesca. Gentiloni da me impegno per negoziati non distruttivi dopo la Brexit. E poi la tregua a Berlino. Ora investimenti e regole più forti. Economia, visite fiscali. Ecco le novità. Il recupero record dell'evasione per il 2016. Lo Stato incassa 19 miliardi. E il giorno della festa. La stampa auguri per i 150. E poi in centropagine. nel legame tra Draghi e Romeo sotto la lente della procura. PD Renzi vuole primarie il 30 aprile. La consulta maggioranze omogenee. Uno scoop fa tremare Fort Apac. E poi ancora dove porta limitazione di Grillo. Passiamo adesso al quotidiano indipendente. Il tempo in apertura. C'è il tutore per l'assessore. Polizza danni per Berdini. Congelato il licenziamento per colpa del no del successore Montini. punta l'idea del gruppo di sostegno all'urbanista che insultò la Raggi. E poi la fotonotizia. Troppi aiuti. Juve ti odio. Ecco il video shock del Ninja. Prenotata la finale di Coppa. Vinciamo tutti e due i derby. In spalla vediamo il titolo. La consulta ai partiti. E ora datevi da fare. Per quanto riguarda l'Italicum e le motivazioni della sentenza. E poi ancora. Visite fiscali uguali per tutti. Reperibili sette ore. Cambia la malattia. Il giorno del ricordo. Lampi scrive al prefetto. No al corteo. Per le foibe. E poi ancora. Il tiro al piccione su Totti. Rivolta per l'Aquila Laziale. Battuta del capitano. All'Ariston. Web scatenato. Passiamo ad avvenire. Il fatto. In apertura all'altro sud. Mai più clientele. E burocrazia. I vescovi. Oltre l'assistenzialismo. Per creare lavoro. E in centropagina. I liceali a Totti. Lascia il lotto. Fai uno spot. Contro l'azzardo. La consulta dalla linea. Renzi verso le dimissioni. Per quanto riguarda la legge elettorale. Ora passiamo al manifesto. In apertura. L'omogenizzato della corte. Le motivazioni della sentenza sull'Italicum. In centropagina. Invece. La fronda romana. Raggi. Commissaria. Berdini. E va alla ricerca di un difficile successore. Appello degli urbanisti. A sostegno dell'assessore dimissionario. Ma sulla cittadella del nuovo stadio. I giochi sarebbero quasi fatti. A tessere l'accordo con i cementificatori. L'assessore allo sport. Frongia. In spalla. Vediamo Francia. Incendio nella centrale nucleare. E ancora il ferrovecchio. Che la UE si ostina a tenere in vita. Sempre per quanto riguarda le centrali nucleari. E nel taglio basso invece. Ultimo stadio. Se raggi e Movimento 5 Stelle diventano i nuovi palattinari. A sinistra. Poi ancora. Perché discutere solo di elezioni. È un vecchio errore. Omicidi bianchi. Vediamo la strage quotidiana sul lavoro. Un DDL punisce chi le provoca. Passiamo ora al il mattino. Bagnasco in apertura. Le interviste del mattino. Flessibilità e precariato. Il presidente della CEA Napoli per il meeting dei Vescovi del Mezzogiorno. I giovani hanno diritto a un lavoro stabile. Duello dei vincenti De Luca sui 200.000 posti pubblici. Ed ancora Franceschini Domus aperte anche di sera. La visita agli scavi. Il commissario Cretu promuove Pompei. Pronti altri fondi per 50 milioni di euro. Il commento che titola i germogli del sud nella notte della politica. E ancora il caso Napoli Servizi. Buffera al comune. Il super manager costretto a lasciare. In centropagina stasera Napoli-Genoa. Il tecnico duro sui rumors di mercato. Io alla Juve. Querelo chi l'ha scritto. I tali come la consulta garantire maggioranze omogenee le motivazioni della sentenza. E poi l'analisi che titola la sfida a Renzi posta in gioco del congresso PD. Nel taglio basso la ricetta Boeri contro i falsi malati. Stessa regola per statali e privati. 7 ore di reperibilità per le visite fiscali. I costi del nucleare della porta accanto. L'incidente in Francia. E la nostra drammatica dipendenza energetica. E poi Sanremo. In breve vediamo. Mica. Viva l'arcobaleno. Spot antidiscriminazioni. Il secolo XIX. In apertura no all'euro a due velocità. Brexit. L'impegno di Gentiloni a me. Non saranno negoziati distruttivi. Vertice tra Draghi, presidente della BCE e la cancelliera Merkel. Patto per la moneta. E in centropagina Università di Bologna. Rivolta anti-tornelli. Scontri con la polizia. Una guerriglia stile anni 70. I collettivi occupano. Gli agenti caricano. L'intervento. Vediamo la generazione Z. potrà contare su giornali autorevoli. E ancora. Vediamo oggi in Carige. A ponte dell'MCSC. Sbarca Genova. La flotta Messina. E nel mirino. Il caso Sanità Ligure. 12 milioni da tagliare tra ASL e ospedali. E poi ancora. Il PD accelera su Genova. Sul candidato. Ci siamo. Guerini. Ora serve una supervisione nazionale. Il caos in Campidoglio. Raggi e Romeo. Amanti. Berdini. Chiamato dai PD. Passiamo ora all'unità. All'ultimo stadio. Così l'apertura. La guerra del dentro. Il Movimento 5 Stelle paralizza Roma. Le dimissioni di Berdini congelate per opportunismo sulle polizze. Romeo non ha convinto la procura. E l'ordine convoca i giornalisti additati da Di Maio. In centropagina ripartire dal mondo. Così il titolo della fotonotizia. L'Europa e la sinistra. In spalla. PD. Se non si vota. I renziani vogliono congresso ad aprile. Il confronto sia sui temi. Se vince Renzi. Sarà il leader di tutti. E nel taglio basso. Evasione. Recuperati 19 miliardi. Canon e Rai. 500 milioni in più. Ed ora la verità. Vediamo in apertura. La pensione iGay manda in crisi l'Inps. Secondo l'ente previdenziale e la ragioneria dello Stato. La legge sulle unioni civili ci costerà 1,23 miliardi. Da qui al 2050. Ma nel conto non sono compresi gli abusi. Facilissimi da commettere un disastro con la reversibilità. In centropagina scandali in Rai. Il girone delle tangenti nell'inferno di Roberto Benigni. In spalla vediamo l'ex rottamatore da premier a Tonno in appena due mesi. E poi ancora Renzi perde anche l'ultimo baluardo. Milano la procura rompe la tregua. Sala, isola, il PD. La borghesia gli gira le spalle e Calenda ne approfitta. E ancora i signori delle città. Perugia come il sud. Crollo del PIL. Ora il sistema di potere di COP e PD. Bacilla resiste quello delle loghe. Ancora strategia. Ieri ho rivoluti nei comunicati di Donald Trump. Nel taglio basso invece analisti d'accordo. L'Occidente finirà nel 2050. Cina e India superano gli USA, Islam, prima religione. Ed ora ci fermiamo con la prima parte di mattino 6 per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo a cura di inmeteo.net. Seconda parte di mattino 6. Continuiamo la nostra segna stampa. Passiamo alle pagine interne dei quotidiani regionali. Abbiamo visto la prima pagina del centro. All'interno vediamo in primo piano caccia al seggio sicuro Abruzzo. L'incognita capilista nella corsa alle candidature. Col primo posto assicurato sulla scheda della Camera o forse al Senato. Si rischia la moltiplicazione dei paracadutati da Roma. Andiamo avanti. Centrosinistra e centrodestra. Partito Democratico. Sricone dico no ai nominati. Ci penalizzano, dice. E invece Pagano. Forza Italia. Ma l'obiettivo oggi è riconquissare i grandi comuni. E nel taglio basso vediamo. E Razzi va a New York in missione da Trump. Il senatore forzista. Sarò in Corea del Nord ad aprile. E posso recapitare una sua lettera a Kim Jong-un. Blackout Abruzzo. Vediamo. Ternasi autoassolve. Solo danni limitati. La di Zanuzzi. Appena 23 linee su 225 colpite da disservizi. E poi ancora l'intervista a Tommaso Ginobili. del Partito Democratico. Ora servono investimenti dopo le parole. Aspetto i fatti. Dice dall'altra parte. Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle. Dai manager solo risposte vaghe. Non c'è un piano per il futuro. Ma a Montecitorio piovono critiche. La realtà è un'altra. La Camera all'audizione dei vertici dell'operazione di rete. Ed Enel sotto accusa i dieci giorni con migliaia di abruzzesi lasciati al buio. Andiamo avanti. Vediamo. Tragedie d'Abruzzo. Il sindaco basta. Processi mediatici pronti a costituirci. Parte civile. Farindola è la trentesima vittima. Perizia sul giubbetto di Italo dell'Isa. Per quanto riguarda l'omicidio di Vasto. Di Lello. I legali puntano all'infermità. E ancora specie a rischio. Ucciso un lupo del Gran Sasso. L'esemplare trovato a Macerata. Era monitorato dal Parco. Si pensa a un'azione di bracconaggio. E Pezzopane firma la petizione del centro contro gli abbattimenti. E ancora legge elettorale. La sentenza alle urne con maggioranze omogenee. Abbiamo visto. Per quanto riguarda le notizie nazionali. Ora passiamo alla prima pagina dedicata alla Regione. Abruzzesi insolventi. I bancamarchi. Ecco i grandi debitori. Spuntano i nomi di Angelini. Caldora Di Gennaro. E dell'ex Sixti. Hanno usufruito di finanziamenti per 75 milioni di euro. I debitori abruzzesi di bancamarchi. Che è così il titolo della fotonotizia in centro pagina. E vediamo. Caldora Costruzioni dice. Nessun prestito facile. Stiamo pagando e lavoriamo. Di Gennaro Costruzioni. Invece l'ex Ad. Arrivò la crisi. E subito ci assalirono. La Novafin di Angelini. Invece la società è fallita. E il patron condannato. La Ex Sixti. Fra i debiti anche 25 milioni con Montepaschi. Alla Sevel di Atessa. Pipi vietata in fabbrica. Caso nazionale. L'operaio si è urinato addosso. Subito sciopero riunione delle RSA. Anche l'azienda si scusa e avvia le verifiche sui ruoli. No allo Scipuanas. La sede resti all'Aquila. Cialente si oppone al trasferimento a Bari del compartimento Abruzzo. E Melilla interroga il governo. Nel taglio basso pari opportunità. La donna in bici. Pace e libertà. Oltre 200 scatti al concorso fotografico. Fra i vincitori. La scuola delfico. E poi ancora all'Aquila. Emergenze. Cambia la struttura. Nasce il servizio prevenzione multirischio. Più uomini e dati. Pescara. In apertura la crisi della pesca. Bungolare e marineria. I fondi scarseggiano. Le 82 barcazioni ferme da settembre. Chiedono un milione di indennizzo. Gli armatori vogliono i danni per il porto fermo. La regione ha 500 mila euro. E ancora vediamo. Il sindaco insultato sui social. La polizia convoca i cittadini. Coda giudiziaria per le polemiche esplose. Nell'estate 2015. Per il mare inquinato. Le ingiurie via Facebook. Rischiano di costare condanne fino a tre anni di reclusione. Via i lavori da 8,5 milioni per il depuratore. Convenzione tra Regione H e Dersi. Parte l'intervento per potenziare l'impianto. Entro l'estate. Svolta sui conti del Comune. Oggi il voto sul bilancio. Sblocca 15 milioni di lavori. Stop lo scontro in Consiglio. Il centrodestra accoglie l'invito. Sì alla riduzione dei tempi di esame della delibera. Per far partire gli interventi di manutenzione. E su questo articolo ci fermiamo. Per vedere il contributo video di Francesca Romana Tessi. Poiché come detto il Consiglio Comunale. La nuova seduta del Consiglio Comunale. Si è svolta nella giornata di ieri. Ancora senza approvazione il bilancio preventivo del Comune di Pescara. Superato il termine del 31 gennaio. Che avrebbe permesso l'utilizzo immediato delle casse pubbliche. Utile all'indomani della grande ondata di maltempo. Per mettere subito in opera le operazioni di ripristino della viabilità. Oggi si punta ad una nuova seduta. Che tenterà di trovare un accordo tra opposizione e maggioranza. Lavoriamo affinché la Bemus Papam si manifesti il prima possibile. Per le ragioni che è appena esposta. E cioè il fatto che approvati il bilancio. Comunque parte una programmazione. Che come primo bersaglio dovrà mirare naturalmente la manutenzione delle strade. Così pesantemente incise dal maltempo di gennaio. Tanto per avere un'idea. D'anni che una prima stima montano un milione e due. Siamo prossimi a definire appunto un accordo complessivo. Che valga al consentire in qualche modo una votazione su un bilancio. Che è importante per la città. Resta naturalmente il rammarico di aver scavallato inutilmente la soglia del 31 gennaio. Con i benefici premiali che sono stati persi. Ma è chiaro che noi attiveremo immediatamente dopo aver approvato il bilancio. Ogni interlocuzione parlamentare. Per lavorare su una eventuale proroga di questo termine. Considerando che noi siamo un territorio in cui la furia della natura si è fatta sentire molto. Nel mese di gennaio. E quindi possono ricorrere le condizioni per una proroga straordinaria di termini. Invita la responsabilità pubblica al sindaco Alessandrini. L'opposizione aveva tenuto a precisare che la mancata approvazione lo scorso 31 gennaio. Era motivata dalla richiesta di spostare i fondi destinati ad opere come il mercatino etnico. Ad altre voci più urgenti per la città. Questo è stato un vessillo ideologico sventolato in nome e per conto di una politica muscolare. Che ha recato penso dei danni alla città di Pescara. Il mercatino etnico è una questione senz'altro sensibile ma risponde ad un'esigenza santificata già da mesi dal Consiglio Comunale che individua in quella sede, quella del terzo sottopasso della stazione, la migliore allocazione possibile per una questione che esiste. Io penso che la politica oggi non possa affrontare i problemi negandoli, facendo finta che non esistano. Figuriamoci poi strumentalizzandoli. Ma bisogna dare risposte concrete. E quella è la miglior risposta concreta possibile. E dall'altra parte Tessa afferma che la Giunta non ha un piano per il turismo. Del Vecchio invece lancia la proposta protezione civile con sede fissa H24. Il Comune apre ai tassisti. Avranno il box toilet o bagni costosi alla stazione. Martedì riunione con amministratori e sindacati. Del Vecchio contatterò le ferrovie e troveremo un punto di incontro. Aggredito in carcere, agente penitenziario finisce in ospedale. E ancora vediamo, andiamo avanti, ospedale il caso. Sempre a Pescara psicoterapia. Le visite torneranno settimanali. Dopo gli esposti depositati in procura dalle pazienti vittime di violenza, il direttore del centro salute mentale chiede di annullare le prenotazioni a quattro mesi. E il display rotto allo sportello CUP con il numeretto. Ancora io, violentata in casa e adesso dal sistema. Maria, 37 anni, senza la psicoterapia. Mi sembra di affogare. Non posso pagare 70 euro a seduta. Nel taglio basso, Vigili, puntellato il soffitto crollato, chiesto l'intervento della ASL. Trasportava 144 chili di droga in carcere, sconterà 4 anni e 8 mesi. Montesilvano, in apertura, servizi a nuove povertà aumentano i morosi. Sempre più famiglie non possono pagare la mensa ai figli. È di circa 50 mila euro il mancato incasso del comune per i refettori scolastici. Ma il Movimento 5 Stelle vuole vederci chiaro. Quartiere Rivierasco, strade a rischio alluvione, servono 400 mila euro. E ancora sono 1.385 gli studenti giornalieri tra alunni, maestri e personale ATA. Nel taglio basso Montesilvano, una serata di amore e arte nello spazio. VRL, evento per appassionati di creatività e buon cibo il 14 febbraio con la designer pescarese Tina Bellini. E ancora vediamo mix di coca ed eroina negli slip. Scatta l'arresto per spaccio. Montesilvano nei guai, un 43enne incensurato. A Città Sant'Angelo viviamo tra frane e degrado. Noi siamo cittadini di serie B, SOS dei residenti. Nelle contrade lontane dal centro, Florindi, non abbiamo risorse per intervenire. Spoltore, nuova sede Fater, via libera e lavori in località. Pescarina, Montesilvano, ancora campionato tra lettori on the road. La libreria delle sorelle Bucigrossi rappresenta l'Abruzzo nella sfida nazionale. Incidenti e infortuni su strade dissestate. Solo otto cause vinte a Francavilla, meno sentenze sfavorevoli all'amministrazione. Nel 2016 l'assessore Campli, difficile ottenere risarcimenti. Isole dei rifiuti, cambia il sistema degli ecopunti. e ancora San Giovanni Tiatino, rischiano di ammuffire i 3 milioni della COP. Parla l'ex assessore Faragalli. E ancora nel taglio basso, Francavilla, Pasqualone e Luciani non parlava così quando ero al Guel Università della Libera Età. La polemica nel taglio basso, i primi 100 anni di nonna Carmela all'anno festa con figli e nipoti. Famiglia con tre bambini verrà sfrattata da casa a popoli. La mamma chiede aiuto a istituzioni e cittadini. Non abbiamo soldi per pagare l'affitto e la nostra figlia disabile di un anno ha bisogno di cure. Penne, corso di alta sartoria sullo smoking all'Abrioni. Di Penne, ancora Villa Celiera. La frana rallenta, situazione di miglioramento sul versante Vestino dopo 24 ore di emergenza. Tocco da Casauri a linee telefoniche ripristinate. Riconnesso anche il fisioter tra Tocco da Casauri e Montesilvano. A Scafa trionfa il dilemma di Bice, lo scatto del fotografo premiata a Pescara per quanto riguarda il concorso della commissione Pari Opportunità. E ancora Chieti. Un'ondata di verbali, multe da record, oltre 9 mila in due mesi. La telecamera installata a Brecciarola sulla Tiburtina Valeria non perdona. Sanzionati 150 automobilisti al giorno. Sgomberato il De Pasquale inagibile. Gli uffici all'ex pediatrico scatta il trasferimento di teaservizi a settore e settore commercio. Lanciano, migranti, 10 sindaci contro il prefetto. I primi cittadini disertano l'incontro con Corona. I profughi non sono la nostra priorità. L'Aquila, il futuro dell'Aquila, vivere in centro storico quando la città si divide. Il presidente della Gran Sasso Acqua, io ci sto, bisogna fare, bisogna dare il buon esempio. E di Avezzano, l'amore della mannoia. Il produttore musicista Carlo Di Francesco è legato sentimentalmente alla cantante da 10 anni. Teramo in apertura, i danni del maltempo, l'8-0. La frana si allarga, aumenta il fronte del terreno che scivola. La strada invia, la stradale, scusate, invia un rapporto in procura. E anche su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Tania Bonnici Castelli. Una fine annunciata ormai da 10 anni. La collina di Contrada Mezzanotte, a pochissimi chilometri dal centro di Teramo, sta crollando definitivamente, portando con sé terra, pali della luce e strade comunali e a breve anche abitazioni. Un vero disastro, previsto però dai residenti che da oltre un decennio continuano a segnalare al comune di Teramo perdite d'acqua copiose che allagano e distruggono le coltivazioni, oltre ad una tavica mancanza di manutenzione dei fossi che provoca il dissesso della rete viaria. Nulla di strutturale è stato mai fatto in questi anni per evitare lo smottamento imponente di oggi, nonostante il pericolo fosse dietro l'angolo. E così i cittadini di Mezzanotte hanno deciso di sporgere denuncia per disastro colposo alla procura della Repubblica di Teramo. Noi oltre che a denunciare, a scrivere a questi signori che non si degnano, nemmeno di rispondere, non a vedere che succede, ma manco rispondono. I signori sono il comune di Teramo. Il comune di Teramo, la regione, la provincia, il prefetto. Io ho scritto a tutti quanti, a tutti quanti. Qual è l'origine di questa frana? L'origine di questa frana è l'abbandono totale del territorio. Guardi un po', questa è una strada comunale, in che condizioni dove va a finire l'acqua. È inutile che poi giù sotto scavano giornate in derecola ruspa. Il problema è risolto a monte, all'origine. Ho detto che mandassero un geologo a vedere perché qui c'è sempre l'acqua. Qua è una zona piena d'acqua, per quale motivo? Alla fine avete scritto alla Procura della Repubblica. Sì, ieri mattina, sperando, non sapendo più a chi rivolgersi, che qualcuno vieni a darci la mano, perché io non so se oggi posso rientrare a casa. Lei è anche una persona anziana a casa. Mia madre, 95 anni. Che non può ricevere le giuste cure. Che stamattina l'infermiere dell'Adi non ha potuto, perché la strada purtroppo non gli consente di... O dovevo scendere col trattore a prenderla, ma la medico io, 40 anni di infermiere, la faccio io volontaria. Hanno bisogno di tanta breccia i residenti di Contrada Mezzanotte di Teramo per poter uscire dalle proprie abitazioni e chiedono aiuto alla protezione civile. Nel taglio basso, invece, sfollati senza soldi, il Comune li avranno. Per l'assessore i pagamenti per gli affitti sono regolari, ma c'è protesta. Sgomberate, intanto altre 42 famiglie. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo all'interno. Abbiamo visto la prima pagina, quindi per quanto riguarda la pagina dedicata alla regione. Il lupo Claudio ucciso dai bracconieri, l'animale monitorato dal Parco Nazionale con un collare GPS trovato senza vita nelle Marche. Audizione in Parlamento, Enel e Terna assicurano nuovi investimenti sul territorio. L'allerta, il pericolo valanghe resta alto per le nuove nevicate. Il bollettino di Meteomont invita gli sciatori a prendere precauzioni e a tenersi all'interno delle piste battute. Aperta l'inchiesta, come abbiamo visto, sulla frana all'8.0. La stradale ha già rimesso una prima relazione. La PM Scamurra potrebbe nominare un perito. Emergenza, ancora smottamento. Intervengono protezione civile e genio militare. Cartecchio, autopsia sul 55enne investito dal treno. Incidente o suicidio. I macchinisti dei treni regionali sentiti dal magistrato. Non si sarebbero accorti di nulla. Il masterplan, in topo clamoroso per i fondi già impegnati, il patto sottoscritto a novembre tra D'Alfonso e Renzi, è incompleto e va corretto entro la fine dell'anno. La Regione ha chiesto il 10% del totale del masterplan al Cipe per girare il 5% dei soggetti attuatori, ma senza le pezze d'appoggio si blocca sia la rendicontazione che la progettazione incompleta delle opere. Legambiente, paesi della Valfino abbandonati dalle istituzioni, territorio vittima dello spopolamento e ora anche senza strade percorribili. Teramo, terremoto, 2.500 terramani, senza casa. Dopo Teramo, sgomberato anche il municipio di Torricella, ordinanze a raffica, collaterrato e intanto l'ex assessore di Stefano polemizza con gli uffici comunali per i fondi negati alla manutenzione delle strade nelle frazioni cittadine. Debiti dei diritti dei disabili, pettinaro al nuovo vicepresidente di carrozzine determinate. Via libera lavori al Museo della Fantasia, Castello della Monica ha rimesso il progetto esecutivo. della ristrutturazione. Rispuntano gli stati generali della cultura, un interessante convegno sui fondi europei bollato con il marchio della disastrosa iniziativa d'autunno. La precisazione, la Puritani e non Bernardi, candidata all'ufficio della ricostruzione. Andiamo avanti, WWF critico sul polo scolastico, gli ambientalisti ripropongono due falsi problemi già risolti in fase progettuale. Comune di Teramo, riscossione, tributi, service, subentra al CERIN. E ancora vediamo provincia, i dirigenti medici approvano l'ospedale unico, il manager Fagnano incontra i capi di partimento dell'ASL sul progetto baricentrico lungo la Teramo Mare. La proposta, illustrata da Fagnano, è stata chiara, ospedale unico per acuti collocato in posizione baricentrica sulla direttrice Teramo Giulianova e mantenimento di un solo presidio territoriale, quello di Sant'Omero. Sanità e ricorsi al TAR bloccano la selezione dei dirigenti ASL. Solidarietà nel taglio basso, 11 farmacie terramane partecipano alla raccolta del farmaco, con l'iniziativa del Banco Farmaceutico per donare medicinali alle persone che non possono permetterseli. Provincia, Renzo di Sabatino vara la sua squadra vicepresidenza a Nunez, deleghe pesanti ai ginobliani e acque agitate nel Partito Democratico. Ogni consigliere di maggioranza si occuperà di un determinato settore, anche se non si tratta di veri e propri poteri di delega sulle decisioni. Verna rifiuta le deleghe, scoppia il caso, i panni sporchi del PD verranno lavati nel partito, ma c'è Maretta su scelta civica. Ed ancora vediamo Albadriatica, l'incontro con Minosse salta per un articolo, cancellato il SAM tra minoranza DEM di Albadriatica e segretario provinciale. Alcuni testerati aspettano da mesi l'ingresso nella segreteria, promesso da Gabriele Viviani. Civitella, Villalempa senza linea telefonica da metà gennaio. La conferenza, Corropoli, Filippo Petrucci, ospite d'eccezione domani al Val Vibrata College. E la sinistra di Martinsicuro tende la mano al PD, cerchiamo un candidato unico e lasciamo perdere le aperture a destra. Nonostante i complimenti delle Iene e mistero sugli indici di vulnerabilità a scuole, gli unici dati disponibili sono quelli incompleti, risalenti al 2013. L'intervista ai microfoni della trasmissione, il sindaco Francesco Mastromauro, aveva garantito di avere scuole sicure. L'Assemblea è ancora a Giulianova, gli amministratori di Nuovo Centrodestra si danno appuntamento a Giulianova. E' ancora albero in mare, mette a rischio le imbarcazioni del porto. Blackout, Giulianova ha aperto lo sportello per gli indennizi Enel. Oltre a quelli previsti, la società si impegna a pagare anche altri risarcimento. La maggioranza è vicina al tracollo a Silvi Marini, ex vice sindaco di Silvi, dalla sua lettura delle tensioni tra PD e SEL. Zero fatti, hanno sbandierato la realizzazione di tante opere senza raggiungere alcun risultato. Atri, scuole sicure, il comitato dei genitori contatta il sindaco di Silvi. Al teatro comunale di Atri, incontro sul dialogo interreligioso. E a Silvi, ancora nel taglio basso, i pini di piazza Marconi sono dei monumenti. Il coordinamento nazionale degli alberi lancia la proposta per conservazione e tutela. E adesso passiamo al messaggero. Abbiamo visto la prima pagina dedicata alle notizie nazionali e anche la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Entriamo all'interno, vediamo le prime pagine dedicate alle quattro province, iniziando dalla provincia di Pescara. Vediamo in apertura cosa riporta il messaggero. Quindi, iniziamo, come detto da Pescara, 8 milioni e mezzo per il mare pulito. Stanziate le risorse per potenziare il depuratore appalto aggiudicato a lati Almacis, Ente e De Cesaris. Chiesta il governatore D'Alfonso una cabina di regia per rilanciare la stagione estiva, assicurando la valneabilità. Le reazioni, ma si pensa a rete duale, impianto bis, presutti, pastore e padovano, guardano alle opere future contro l'inquinamento bilancio. Oggi il voto in Consiglio Comunale. Il meeting odontotecnica ai gioielli di marzio e poi in breve, l'atto martedì in giunta, scrutatori a sorteggio, cioè la delibera. All'interno vediamo buchi allagamenti, danni per milioni, del vecchio tempestato da richieste di intervento, ma i soldi bastano solo per tamponare i casi più gravi. Asfalto disastrato sul lungomare nord e alla stazione, mentre da Porta Nuova fioccano istanze di risarcimento. In spalla, in comune, 30 nuovi assunti grazie alla mobilità. E la condanna a narcotraffico. Il carcere apre le porte a Cerasa, sorpreso a Genova nell'ottobre 2015, con 150 chili di cocaina della drangheta. Dovrà scontare 4 anni e 8 mesi. Lotta al crimine. La polizia Rola Mercurio, un tablet contro il crimine. Da ieri il sistema è operativo su tutte le volanti della questura per acquisire dati dalle targhe auto. E vediamo ancora il delitto. Iacone tenta la carta del riesame. Oggi la decisione sulla richiesta di revoca della custodia cautelare per il cuoco, accusato dell'uccisione della psicologa Monia Di Domenico Massacrata nella casa di Francavilla, affittata all'inquilino, che era in ritardo con i pagamenti. In spalla il sindaco di Farindola. Non saremo noi i capri espiatori, ha detto. E ancora due poltrone per l'appoggio degli ex alleati. A Montesilvano 2019 chiede presidenza e assessorato il concorso. Biciclette di pace, scatto vincente di Geltomoro. E poi ancora l'arte e la storia. I cascella e la ceramica via al ciclo di incontri. Buone azioni, Sanremo, due onlus per le zone terremotate in breve. Recupero sociale, detenuti a lavoro in comune. E a Montesilvano, droga negli slip, 42enne in manette. Vediamo la pagina dedicata all'Aquila. Il caso, Sedeana, Sabari, Cialente, il governo. Ci abbandona dal sindaco, un duro atto d'accusa. Il coordinamento deve restare in città. Ora basta, c'è gente che va via da qui. Voglio sapere lo Stato che vuole fare, ha detto. Scuole, Cotugno, primo giorno all'Isis d'Aosta. È surreale la rivolta dei genitori. Speriamo sia davvero una situazione temporanea. E lo scontro comune all'autoparco, l'Iris e guerra nel PD. Le scuole ancora validità dell'anno scolastico. D'Alfonso scrive al Ministero. Città sotto shock, serve la zona franca. La proposta di Cioni della Confcommercio. Non solo la sospensione dei tributi, ma soluzioni strutturali. La seconda ipotesi che viene paventata dalle associazioni è la possibile istituzione di una provincia autonoma. Occupazione, voucher per lavori occasionali. Parte la campagna per l'abolizione. La CGL ha avviato la mobilitazione in provincia. Sono già state raccolte 17.000 firme. E la protesta, Fontana Luminosa, commercianti isolati. Ancora il dibattito. Gli ingegneri, l'Aquila è la più sicura. L'evento rugby cresce l'attesa per Italdonne. Due Aquilani nei sei nazioni rosa. E Lions Club, convegno su donazioni e trapianti di Cornea. Il rito sant'Agnese. Eletto Baratelli, un priore costruttivo. Picchiato e rapinato nella sua villa. Lavezzano, arancia meccanica in pieno centro. Noto avvocato e la moglie rinchiusi in uno sgabuzzino. I due si sono poi liberati da soli. La banda di stranieri è penetrata nell'appartamento munito di impianto antifurto. Ieri la denuncia ai carabinieri. Sanità, neurochirurgia. Gli ampieri, lunedì tutti all'Aquila. E ancora scanno, impianti scistici ancora nel caos. Sul Mona, censore rotto. Uffici ASL inaccessibili per i disabili. Avezzano, Cascere denuncia a un incarico comunale. Sul Mona ancora l'ultimo saluto a Angelo Merola. E Tagliacozzo, in basso, ospedale Umberto I, si va dal prefetto. Chieti, palazzo di Pasquale Nagibile, al via lo sgombero degli uffici. Tea Servizi, Chieti, Solidale e Commercio. La nuova sede sarà dentro l'ex pediatrico. E intanto, Santa Maria Talvona, una nuova frana ha danneggiato la fogna appena ricostruita. La sentenza critica politica, archiviato il caso di Paolo Di Primio. L'emergenza, alberi e rami caduti, nuovi lavori per rimuoverli, ecco divieti e chiusure. Marzoli, del PD, denuncia zero spazi per animali. Chieti, ultima in Italia. E l'omicidio di Italo non è premeditato. La difesa di Lello vuole smontare la tesi della procura, ma il PM di Lucia ha in mano elementi che incastrano il killer. I beni ceduti ai genitori e la pistola presa a settembre spingono l'accusa a ipotizzare un lucido disegno punitivo. Del 34enne a Pescara al via la perizia, intanto sui telefoni e PC di vittima è omicida. La verità, entro 30 giorni a Tessa, bagno negato all'operaio della Sevel, scattano le denunce. Vediamo il sommario spremere i lavoratori fino al divieto, ripetuto e continuato, è un fatto di una gravità inaudita. Passiamo alla pagina dedicata a Teramo. Il caso, in apertura sisma, sgomberate 42 famiglie, gli sfollati salgono a quasi 2.500. Le ultime ordinanze riguardano con l'atterrato, con le piano e forcella, protestano gli inquilini Ater, mai arrivati i contributi per l'autonoma. Sistemazione, opere in centro pagina, lavori al castello della Monica, approvato il progetto esecutivo, in spalla le spine, incubo frane e un bollettino di guerra, scatta l'inchiesta. La tragedia, travolto dal treno, si toglie la vita, impiegato di banca. E ancora, vediamo, Giulia Nova, tua, scoppia lo scandalo forniture, partiti, avvisi di garanzia per il presidente Michele Valentini, i titolari di quattro aziende e fornitrici della società dei trasporti. Secondo la Guardia di Finanza, un giro di 30 milioni per imprese che farebbero capo a un unico grande gruppo. Pineto, due nuovi esempi di beneficenza che funziona. Alba Adriatica, furti, i commercianti vogliono anche le ronde. Andiamo avanti, ora passiamo alla pagina sportiva, Abruzzo Sport. In apertura i piromani hanno un nome, 5 euro di benzina acquistati a un distributore self-service per il rogo che lunedì ha distrutto le auto del presidente del Pescara. Per la procura sono cani sciolti, frustrati per la sconfitta e le botte prese dai laziali, escluse pressioni per cedere il club. E vediamo la Digos, quindi punta sulle frange estreme del Tifo per l'attentato di lunedì contro Sebastiani. La giornata, la conferma di Annascoli, ripresento l'offerta, ha detto Lega Pro nel taglio basso, Teramo a Fano prova d'appello. Per Zauli il posticipo di lunedì sera contro l'ultima in classifica deciderà il destino dell'allenatore. E su appunto il posticipo di lunedì sera possiamo vedere il contributo video di Jacopo Forcella. A poche ore dall'eliminazione dalla Coppa Italia per il Teramo è di nuovo tempo di campionato. Iniziamo dalle buone notizie in casa Biancorossa. Nel pomeriggio in cui esce sconfitto dal dischetto contro l'Ancona, il diavolo può parzialmente sorridere guardando ai recuperi di campionato di ieri pomeriggio. Le vittorie di Gubbio e Maceratese rispettivamente su Lumezzana e Modena lasciano il fondo della classifica invariato con il Teramo, unica squadra insieme al Pordenone con una partita da recuperare, in grado di compiere il doppio sorpasso sulle dirette concorrenti. Ma per la sfida contro i Veneti ci sarà tempo o meglio pensare a quello che potrebbe accadere lunedì sera al Mancini di Fano quando il diavolo andrà a far visita ai Granata di Agatino Cuttone, squalificato per l'occasione. Nei marchigiani in dubbio Favo, Filippini e soprattutto Bellemo che ha un problema al dito del piede ieri. Insieme agli altri due compagni di squadra ha svolto lavoro a parte. Ma a Fano il clima è quello dei grandi appuntamenti, per questo la società marchigiana ha abbassato i prezzi dei biglietti per assistere alla gara delle ore 18.30. È uno sconto diretto importantissimo, giochiamo contro una squadra che si è rinforzata discretamente nel mercato di gennaio, come del resto abbiamo fatto noi. I sconti diretti adesso sono assolutamente da non sbagliare perché il risultato fa la differenza. Andiamo lì a Fano, mi auguro che i giocatori siano sempre più convinti di quello che fanno, oggi me l'hanno ulteriormente dimostrato. Quindi andremo lunedì a Fano sapendo che sarà una partita molto difficile, come tutte, ma abbiamo le possibilità di andare a vincere. Il Teramo invece con Spighi certamente ancora out e Branduani in dubbio, nella gara contro l'Ancora ha risparmiato Barbuti, ma spremendo Sansovini per 120 minuti. Probabile dunque che l'ex Lumezzane possa partire dall'inizio insieme a Tempesti, che finora ha destato, ottime impressioni. Tornerà il capitano Ivan Speranza nel pacchetto arretrato, mentre in mediana, insieme a Damadio e Di Paolo Antonio, spazio a Ilari, uno dei migliori nella gara di Coppa. A provare ad innescare le punte ci sarà Carraro, ma c'è ancora qualche allenamento da sfruttare per avere le idee più chiare, anche perché al Mancini non ci sono alternative. O il Teramo fa risultato, recupera terreno e prova ad invertire la tendenza, altrimenti le conseguenze sportive e tecniche potrebbero essere devastanti. Ed ancora in Serie D vediamo l'Aquila, guerra di comunicati, la squadra è col tecnico. La vittoria amatelica rilancia il San Nicolò per Epifani, arrivato il primo successo del 2017. Eccellenza in centropagina, Lucarelli, una Coppa dedicata alla società. Il tecnico del Paterno Parla del Trionfo in Coppa Italia, risultato storico, il Presidente meritava. Un risultato così, il basket a due, Roseto trova il play che cercava, è Piazza e ancora Rugby e l'Aquila alla vigilia di Firenze via Flammini, arriva Canulli. Basket a due, la Proger nel taglio basso, piove sul bagnato, Davis finisce KO, sarà tagliato? Questo lì, l'interrogativo. E con la pagina sportiva termina la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.